non si mangia più? non ho voglia di scendere a comprare qualcosa e risalire brava beh tanto dobbiamo raggiungere Prokos e Fritz Lang in una sala rionale c'è una cantante che potrebbe andar bene per la parte di Nausicaa e danno anche un film ce n'eremo dopo faremo tardi se vuoi vedere anche il film sì ma ci tengo può darmi qualche idea le idee faresti bene a far te le venire da solo invece di rubare quelle degli altri ma perché dici così che ti prende? su Emilia andiamo sbrigiamoci ecco me ne ero sicuro di che? adesso che ho detto di sì a Prokos è finita la tenerezza eh sì sono finite le carezze che ti ha chiesto Prokos al telefono? se andiamo a Capri che gli hai risposto? gli ho detto che dipendeva da te ma di sei impazzito ma che ti è venuto in mente? sai bene che è una cosa che devi decidere tu e non io e allora viene a Capri? no perché se forse qualcosa tra te e Prokos? sei proprio un ossino vieni mettiti seduta devo parlarti ma non è detto che vuoi andare al cinema ti prego ascolta mi bisogna che ti parli va bene sono qui che ascolto sì bisogna che ti parli poco fa prima che il telefono suonasse ti ho detto che non volevo fare più questo lavoro perché non ero più sicuro del tuo amore ma tu mi hai detto che ti amavi e che doveva accettarlo sì ma non è vero che mi ami hai mentito perché non lo so perché te per interesse e quale interesse avrei? quello di restare in questo appartamento che ti piace tanto tu hai la pretesa di indovinare quello che pensi mi è indifferente restare in questa casa puoi anche venderla se vuoi me ne infischio prima però hai detto che ci tenevi e che è meglio della pensione ma non è vero l'ho detto che fate piacere comunque questo non è importante voglio sapere perché hai mentito poco fa ma chi è che dice che ho mentito finiscila sì lo sento che non mi ami più anche se fosse così che ti importa saperlo allora lo ammetti tutto lo ammetti No, non è vero. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, non riesco a più. Non riesco a fare. Inglis, non inglesco, mi ha avuto la scettiera e ho ho sottile. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sì, io ci voglio. Sì, io ci voglio. Non è voluto in me, è a fiumma. Ma io ci devo fare con i te? Non c'è, ma a fare con, ma? Ma dovante… Ma è la cosa? Mi parla su... Mi parlare con le scettino, se è costo con il sottile alla scettiera. Però è l'arguo alla loro sottile all'shè. Ma è? Ma è? Ma non vado a dire la scettino? Ma è? Ma è la scettino? Ma è la scettino? Ma è la scettino? Ma è la scettino? ... Sì, 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 sì. non è iniziato da essere il suo lavoro, quindi non è iniziato da fare più 40 anni. Non è iniziato da fare più volte, ma io mi sono a sottopolo. E' è buon al tempo viene senza un passato sono c'è c'è . chiamo 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 ... ... ... ... grazie a tutti 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 Cos'it ain't. Here she comes, right on time. That's funny. What? That plane's dustin' crops where there ain't no crops. That plane's really bad for me. I love you. Let's go. Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.